Ciao a tutte ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di skincare coreana ma un pelo diverso dal solito perché vi porterò tutti i prodotti di skincare coreana che potete tranquillamente trovare su Amazon. Faccio questo video per due motivi. Primo perché secondo me può essere utile sapere quali prodotti comunque possiamo trovare su Amazon e secondo anche se costano leggermente di più, questi la maggior parte, cioè se non tutti, hanno Amazon Prime. Quindi se avete Prime in un giorno, massimo due dir tanto, vi arrivano a casa. Quindi ho detto perché non farlo visto che solitamente i siti dove conviene acquistare sono quelli comunque appunto coreani che costano meno però ci mettono almeno due settimane ad arrivare e quindi ho scovato questi prodotti che sono originali che vanno super bene perché fino a poco tempo fa si rischiava veramente in poco tempo a finire male a trovare prodotti che non erano diciamo verificati invece questi sono verificati. Quindi ora ve ne parlo un po'. Ovviamente tutti i link li troverete qui sotto diretti e troverete anche tutti questi prodotti nella mia vetrina Amazon quindi vedete voi come vi trovate meglio, comunque li trovate qua sotto. Partiamo con il primo prodotto. Allora il primo che vi mostro è questa maschera di Beauty of Jaws, la Red Bean Refreshing Pore Mask. Questa qui è una maschera purificante appunto con l'estrato di fagiolo rosso che appunto i coreani hanno trovato che i fagioli hanno un sacco di proprietà, infatti fanno un sacco di roba con i fagioli. Sa di fatto che a me questa maschera mi piace moltissimo perché la trovo veramente super delicata ma purifica veramente a fondo. Adesso vi faccio vedere la texture un attimo così, non so se riuscite a vedere quanto è soda, cioè non si muove. È quindi stile argilla però la trovo veramente molto delicata. La si mette sul viso senza problemi, non cola, non fate caos e appunto funziona molto bene perché vi diciamo leviga un po' la pelle, poi ha un effetto magari un po' momentaneo post maschera però se la fate diciamo con frequenza vedrete comunque risultati. In più aiuta tantissimo a ripulire i pori e i filamenti sebacei e in generale io la consiglio tantissimo anche una pelle grassa, mista, asfittica, a tendenza acneica da fare a seconda delle esigenze una massimo due volte a settimana. La consiglierei anche alle pelli più sensibili che ogni tanto vogliono andare a purificare ma magari hanno paura di esfoliare o di usare acidi esfolianti questa è super adatta anche per chi appunto ha questa paura ma vuole comunque purificare la pelle. Passiamo a questo detergente di Mison che ne ho parlato veramente tantissimo perché per me è stata una scoperta favolosa. Questo detergente si chiama Snail Repairing Foam Cleanser ha all'interno anche l'acido glicolico ma questa formula è talmente fatta bene è talmente diciamo completa tra idratazione e anche un po' di esfoliazione appunto con acido glicolico che io ci sono rimasta quando l'ho letto perché veramente non sembra per niente un prodotto con anche degli esfolianti perché a volte i prodotti con esfolianti comunque non è che irritano però magari lo senti che c'è un prodotto esfoliante all'interno questo invece è super delicato secondo me anche super indicato a chi ha una pelle sensibile e ripeto come ho detto prima magari non se la sente di esfoliare o di purificare eccetera perché ha paura questo prodotto è super delicato ovviamente non sarà performante come altri acidi che sono magari un po' più concentrati perché qui comunque nella formula è molto diluito l'acido glicolico ma fidatevi che è veramente un prodotto favoloso sia da usare tutti i giorni perché è una pelle secca mista sensibile magari sensibile non so se usarlo tutti i giorni ma 2-3 assolutamente sì e anch'io che comunque ho una pelle solitamente tendente più al misto grasso l'ho usata e l'ho amata perché comunque è super delicata sembra di mettere proprio una crema sulla faccia cioè non sembra di mettere un detergente ma una crema che poi tu spalmi e va via cioè è veramente una coccola per la pelle e io amo di tanto usarlo proprio per questo motivo passiamo al tonico di Aru Aru Wonder a riso nero per pelli sensibili senza fragranze e alcol allora questo tonico io lo straconsiglio sempre a tutte le persone che mi chiedono un tonico che sia delicato che sia pesato per pelli sensibili che non sia con particolari profumazioni che sia idratante insomma questo tonico va bene veramente a tutte le tipologie di pelle è un tonico che mi verrebbe da dire che sul viso sembra quasi un pelino oleoso l'ho notato riprovandolo nel tempo perché alla prima diciamo provata se si può dire al primo test non me ne ero molto accorta di questa cosa ma poi facendo il confronto con altri tonici lo sento più che acquoso leggermente oleoso ma non è un oleoso che dà fastidio anzi assolutamente lo trovo veramente indicato a chi sta passando un periodo di pelle sensibile che può essere magari che ha d'acne può essere che ha la rosacea che ha la cuperose può essere che ha una barriera cutanea danneggiata può essere che ha una pelle appunto sensibile può essere che ha una pelle che ha esfoliato troppo e quindi ha bisogno di andare un po' a lenire insomma questo tonico va bene veramente a tutti e a tutte vi deve ovviamente piacere un prodotto senza profumi perché magari a volte c'è chi dice no io voglio un prodotto un po' profumato perché mi piace di più avete ragione ci sta anche a me piacciono molto quelli profumati ma c'è da dire che togliere i profumi è un fatto proprio anche di sensibilità nel senso che a volte anzi se non sempre i profumi possono recare un po' di fastidio a chi ha una pelle sensibile a meno che non siano profumi fatti in un certo modo quindi questo prodotto io ve lo straconsiglio veramente è troppo troppo favoloso Siero DTM Elvita B3 Source appunto niacinamide con questo packaging favoloso questo qui veramente l'ho trovato super valido allora io trovo molti benefici appunto della niacinamide in questo prodotto ovvero che ho notato una grandissima idratazione pur rimanendo comunque molto leggero sul viso ho notato i pori leggermente più diciamo curati nel senso meno meno dilatati ovviamente non sono spariti ma ho notato questo in più ho notato che mi aiutava leggermente anche con le macchie e con la regolazione di sebo in più è un siero veramente molto molto leggero quindi non fa assolutamente appesantire il viso infatti è super adatto secondo me per le pelli più grasse infatti è un siero che consiglio particolarmente che è una pelle mista grassa che è una pelle magari sul secco andante consiglierei altro sinceramente ma se state cercando un siero alla niacinamide che non costi troppo e che sia veramente molto valido questo qui secondo me è super passiamo a questo tonico di Skin 14 della linea Madagascar Centella il Toning Toner allora questo tonico secondo me è super indicato allora intanto per diciamo pelli da normali a secche sicuramente ma secondo me anche le pelli un po' più grasse lo possono sopportare benissimo perché lo sento idratante ma per niente pesante in più all'interno ha come acidi esfolianti uno dei pH però è abbastanza in mezzo alla formula e in più sono talmente delicati i pH che non lo definirei proprio un tonico esfoliante anche perché vi dico di base tutti i prodotti coreani sono molto meno irritanti sono molto meno concentrati rispetto ai nostri ho proprio notato questa cosa infatti a volte a me fanno un po' poco questi prodotti perché ho bisogno di concentrazione un po' più alta in certi periodi quindi io per esempio questo tonico l'ho usato tranquillamente anche tutti i giorni anche in combinazione con retinolo e esfolianti perché è talmente delicato è talmente la formula pensata in un certo modo che assolutamente io per il mio tipo di pelle non lo reputo un tonico esfoliante però possiamo reputarlo invece esfoliante per tutte appunto come ho detto anche prima delle pelli sensibili che magari hanno paura di esfoliare o hanno bisogno di prodotti estremamente delicati se cercate un prodotto estremamente delicato per esfoliare chi ha una pelle sensibile questo qui lo può usare tranquillamente anche due tre volte a settimana mattina e sera è indifferente secondo me veramente potete andare sul sicuro forse lo potete usare anche di più poi dipende dalla vostra pelle e da come reagisce ma vi posso dire per la mia esperienza personale che questo tonico secondo me è super bilanciato tra esfoliazione lenire e appunto anche idratare infatti secondo me è veramente molto carino in generale questa linea di Schimile 4 la Madagascar Centella tutto quello che ho provato mi è piaciuto molto e secondo me è veramente super consigliato veloce menzione a questo tonico che vi ho già parlato un'infinita di volte quindi non mi voglio troppo ripetere ma vi volevo far presente che anche lui è presente appunto su Amazon ed è il tonico di Numbuzin il numero 3 Super Glowy Essence questo è un tonico che fa anche da essenza ed è un'essenza che fa anche da tonico diciamo quindi volendo potete fare due step in uno oppure ne fate due o tre come volete è indifferente sa di fatto che questo qui è veramente favoloso perché all'interno ha tipo 50 ingredienti fermentati ha dei probiotici ha ingredienti super lenitivi super idratanti è veramente un tocca sana io lo consiglierei soprattutto a chi ha una pelle diciamo tendenzialmente un po' più sul secco e con delle macchie da appunto andare a curare e a schiarire perché secondo me fa molto questa cosa questo tonico però lo consiglio anche alle pelli magari un po' più grasse che vogliono idratare e andare a mirare anche sulla luminosità magari se non amate particolarmente texture corpose perché questo tonico comunque non è diciamo super super liquido appunto essendo un toner essence quindi magari se non amate queste texture lo potete usare più la sera ma personalmente non lo reputo per niente pesante anzi si asciuga veramente molto in fretta e secondo me è un tonico che veramente almeno una volta lo dovete provare passiamo alla protezione solare questa qua di beauty of joseph la relief sun rise più probiotics spf 50 con tantissimi più dopo ipa allora secondo me questa protezione solare è quella che più è non so amata probabilmente proprio perché funge quasi da crema viso quindi è idratante ma super super leggera veramente io non ho mai provato una protezione solare di questo tipo nel senso che appena messa sembra quasi molto corposa ma appena la mettete si asciuga ma comunque mantiene l'idratazione a lungo quindi io la consiglio sicuramente a chi ha una pelle da normale a secca come protezione solare perché magari appunto vuole quel twist in più ma anche appunto io che l'ho usata nel periodo anche estivo avendo una pelle grassa non ho avuto particolari problemi anzi lo amate della mia preferita quindi questa qui ve la straconsiglio in più ha veramente un rapporto qualità prezzo ottima secondo me per quello che vale ed è favolosa io ragazze veramente questa qua ve la consiglierò sempre finché non tutte non mi venite a dire che la amate ultimo prodotto di skincare coreana che trovate su amazon è sempre di beauty of joseon ed è la dynasty cream questa crema ragazze a me piace veramente tantissimo allora questa crema perché mi piace perché secondo me è versatile nel senso che può essere usata sicuramente da che una pelle da normale è anche sensibile perché anche all'interno tanti oli burri ha degli ingredienti proprio molto idratanti umettanti e demolienti però secondo me non è neanche così male per una pelle mista grassa di sera di giorno potrebbe essere un po' too much me ne rendo conto potrebbe asciugarsi un po' lentamente quindi magari non la consiglio ma per una pelle magari appunto anche sul grasso che quella sera vuole idratare perché comunque ricordiamoci che una pelle grassa va idratata questa qui può essere usata tranquillamente la sera anche da quelle tipologie di pelle ovvio dipende da voi ripeto come volete sentire la pelle come vi piace avere la texture dei prodotti sul viso eccetera ma è una texture secondo me nonostante sia ricca che si assorbe veramente in fretta e non dà noia quindi secondo me per concludere la skin care per diciamo occludere bene il tutto è una crema perfetta anche questa non ha profumi anche questa indicata per pelli sensibili veramente una favola bene ragazzi io vi ho fatto vedere un bel po' di prodotti appunto che potete trovare su Amazon troverete tutti i link qui e anche la mia vetrina vi chiederei appunto se voi conoscevate già questi prodotti se li proverete se vi piacciono se non vi piacciono cosa ne pensate insomma fatemi sapere la vostra nei commenti che mi piace sempre avere anche il vostro diciamo punto di vista vi chiedo anche di mettere un bel mi piace di sostenere il canale se vi piacciono questi video e se volete appunto sempre più contenuti così appunto capisco che sto andando verso la strada giusta e così arriviamo anche tutti insieme se vi iscrivete ai mille iscritti vi ricordo che a brevissimo usciranno anche altri video quindi rimanete sintonizzate alla prossima e ciao a tutte